buona giornata amici da massimo foghetti oggi è venerdì 17 dicembre 2021 venite con me andiamo indietro nel tempo e vediamo qual è il santo del giorno siamo nel medioevo siamo nell'anno 1100 e qualcosa di più siamo in provenza e vediamo e incontriamo san giovanni de mata sono molti i santi che si chiamano giovanni ma questo è un santo particolare fu il fondatore dell'ordine dei trinitari nacque in provenza nel 1154 fu dottore in teologia laura che conseguì frequentando l'accademia di parigi prese poi gli ordini divenne sacerdote e durante la sua prima messa ebbe una visione che gli cambiò la vita un angelo con le ali distese con le mani anche sopra due persone erano due schiavi uno moro e uno bianco e questo fece capire a giovanni che doveva dedicarsi alla redenzione degli schiavi compì una vita piena di missioni e fu missionario in spagna in algeria in marocco e ovunque compiva prodigi per questo fu appunto santificato e dopo questa notizia passiamo a vedere come si evolve il tempo oggi sulle marche le condizioni atmosferiche proseguono per quanto riguarda un parziale bel tempo il tempo sarà stabile grazie alla persistenza dell'anticiclone con nubi irregolari al mattino e sole prevalentemente nel pomeriggio le temperature si aggirano tra i 10 e i 4 gradi 10 la massima e 4 la minima comunque sono sempre in calo e fa piuttosto freddo ed ora leggiamo le notizie sui quotidiani a partire dal resto del carlino questa mattina vediamo la prima pagina purtroppo la notizia non è edificante non è bella perché le marche tornano gialle da lunedì il covid dilaga la pandemia si espande e anche la nostra regione ne subisce le conseguenze un boom di contagi e tutti i parametri dei ricoveri ormai sono superati si anticipa così il declassamento della regione non ci saranno grandi cambiamenti ma occorre indossare anche la mascherina all'aperto e poi vediamo un lutto un lutto quasi inspiegabile muore un insegnante di 46 anni giallo sulle cause della tragedia l'autopsia dovrà fare chiarezza sono stati 200 i marchigiani che sono andati a roma per protestare nell'ambito del sciopero proclamato da due sindacati dalla cgl e dalla will la strage di corinaldo suscita ancora la rabbia dei parenti perché al processo non sembra che venga fatta giustizia e poi vediamo il pronto soccorso di pesaro ancora intasato problema una mattinata infernale è un caso particolare che si riscontra quando la burocrazia prevale sul buonsenso la pensione sa di beffa 6 euro compresa la tredicesima per un insegnante due notizie a fondo pagina il barocci e il pomarancio ritornano da brera a urmino e poi una notizia di sport il poker vl manca da dieci anni all'interno del resto del carlino adesso siamo alla pandemia per quando riguarda i bambini per la prima volta il contagio è più alto nei giovanissimi ma i danni sono sanitari e sono contenuti i danni sono sanitari sono contenuti il problema nei fatti è scolastico è evidente che si tratta di un contagio sostanzialmente derivanti da due fatti coincidenti su un'unica fascia di età appunto quella dei più piccoli la scarsa vaccinazione per una fase vaccinale appena partita è limitata anche alla ritrosia di alcune famiglie quando si tratta di bambini ovviamente ci sono mille precauzioni e poi la frequentazione nelle scuole dove ovviamente il contatto è maggiore quindi il covid dilaga superato il terzo limite la zona gialla scatterà subito nella nostra regione cambio di colore da lunedì prossimo ricoverati in area medica sopra il 15,5 per cento l'incidenza sale al 263,88 su 100 mila abitanti e c'è anche un picco di nuovi casi 753 contagiati e poi ci sono anche sei decessi nella nostra regione dunque appunto sono dati preoccupanti e qui vediamo come reagiscono i bambini e di fronte alla vaccinazione ecco il piccolo esercito dei bambini intitola il Carlino paura ma che l'ha fatto anche la nonna così dice un bambino oltre 30 tra i 5 e gli 11 anni nel giorno dell'esordio si sono presentati ad Urbino Diana e Iker i primi della provincia e i clown dottori portano sorrisi li vediamo qui i clown e i dottori che con le loro smorfie la loro simpatia soprattutto fanno sì che il trauma chiamiamolo pure così della vaccinazione venga ridimensionato e anche i bambini dunque vanno al vaccino chiusura di psichiatria ennesimo capolavoro in realtà non è affatto un capolavoro e c'è la protesta dei sindacati dopo il prevedimento assunto dall'area vasta che per reperire personale per la casa di Galantara che non è più casa di riposo ma è stata trasformata in luogo di degenza covid si chiude la psichiatria di Pesaro per appunto risparmiare il personale ma si rinforzano quelle di Fano e di Urbino l'ira dei sindacati alla notizia della riorganizzazione dell'Aso ancora una volta i pazienti fragili a pagare saranno il prezzo più alto in realtà questa era un provvedimento annunciato invece di assumere altre persone si rimodula l'organico esistente e quindi questo ovviamente non dovrebbe accadere perché poi a rimette ci sono i pazienti più fragili e c'è anche una mattinata d'inferno al pronto soccorso di Pesaro via e vai di serene nel piazzale un'anziana che si è fatta solo la prima dose arriva respirando male altri non si erano vaccinati altri 40 accessi per varie patologie il caso del 60enne Novax che aveva prenotato l'ambulanza ma preso dall'ansia chiama il 118 insomma una situazione veramente infernale quella che il Carlino descrive questa mattina per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso gente che non respira gente che ha mille patologie gente che soffre insomma veramente una situazione molto molto stressante addirittura anche per gli operatori in terapia intensiva respirano intubate 19 persone di cui la maggior parte non sono vaccinate un bimbo delle alimentari e risultato positivo i casi poi finiscono in pediatria a Fano dunque una situazione veramente brutta quella che accade all'ospedale e poi vediamo quello che è accaduto al tribunale di Ancona per quanto riguarda la strage di Corinaldo vediamo qui il titolo le famiglie replicano questa non è giustizia a che cosa replicano replicano ad una decisione del giudice che ha incluso solo la società World Private Security che si occupava della sicurezza del locale quella sera per quanto riguarda appunto l'implicazione nel tribunale altre quattro entità escono dal procedimento bis per questa strage della lanterna azzurra e si tratta del comune di Corinaldo del ministero dell'interno dell'Asur e dell'unione dei cominci Misa e Nevola e c'è la reazione appunto delle famiglie che vediamo appunto alla famiglia della famiglia di Benedetta Vitali la ragazza fanese che è perita durante appunto questo dramma. Il procedimento giudiziario è quello relativo ad accertare la responsabilità sulla sicurezza della discoteca si dilunga quindi i tempi di tutela e di risarcimento per le famiglie delle vittime per i feriti sono così destinati a protrarsi perché andrà attivato nella sede civile quindi saranno lungaggini ancora da affrontare. L'altra pagina è dedicata invece a questo caso curioso della burocrazia curioso però fa un po' anche arrabbiare pensione tredicesima in totale fanno 6 euro si tratta di una persona di un settantenne che era in pensione e aveva concordato che le trattenute per quanto riguarda gli arretrati fossero così ripartite in quattro rate. In realtà che cosa è accaduto? È accaduto che tutta la somma è stata accumulata nella pensione di dicembre per cui gli sono rimaste soltanto 6 euro in tasca e lui sconsolato ha detto bene a Natale andrò a mangiare alla Caritas quando la burocrazia prevale sul buonsenso. Ciò però la carica dei 200 a Roma tanti sono i lavoratori iscritti al CGL Will che sono andati nella capitale fanno parte soprattutto della metalmeccanica i quali hanno partecipato alla manifestazione in piazza del popolo. La vediamo qui la delegazione con lo striscione della Will FPL Marche che protesta insomma con tutti poi gli altri rappresentanti dei sindacati delle altre città italiane che hanno protestato contro il governo per quanto riguarda le disposizioni partite per le pensioni soprattutto. Ragazzi riparte la gara letteraria luci nel buio della Shoah presentata ieri la quarta edizione del concorso tra le scuole confermato il premio in denaro di 1500 euro al primo classificato. E poi vediamo questa notizia di cronaca di questa morte inspiegabile. Si tratta di Valentino Bellucci, filosofo e saggista. Aveva insegnato all'Accademia di Macerata e Urbino, per anni ha abitato a Montecchio dove risiedeva la sua compagna. È deceduto all'età di 46 anni, molto molto giovane ed è arrivato al pronto soccorso oceanotico e con insormontabili difficoltà respiratorie. Era un buon divulgatore e si era avvicinato al mondo dello spettacolo. Ora l'autopsia dovrà chiarire le cause della morte. È una morte di per sé al momento inspiegabile. E ora passiamo alla pagina di Fano. Vediamo come un problema annoso viene evidenziato in questo articolo di apertura, quello delle buche nelle strade. Si è parlato tanto di questo problema che crea tanti tanti disagi sia le persone che camminano a piedi, che possono inciampare quindi a cadere, sia quelle che vanno in macchina perché quando le strade sono molto disagiate e anche le auto subiscono danni. In questo caso una BMW ha avuto una gomma scoppiata addirittura. Maxibuche e gomme spaccate, le proteste e furioso Martin Benevsky, un 41enne fanese, che mercoledì mattina ha rotto l'anteriore destra della sua BMW Serie 5. Ma ci sono tanti altri episodi. Ha incappato in una buca sul manto stradale nel quartiere di Bellocchi. Questa volta ha detto chiedo i danni al comune perché appena sono sceso in colume dall'auto ho chiamato la polizia raccontando quello che era successo e chiedendo che venissero subito a sistemare la strada. Non era una semplice buca, era in realtà quasi un cratere. E da questa mattina rientrano gli studenti in classe al liceo classico Nolfi che hanno usufruito di un giorno di vacanza inaspettato perché si è rotto l'impianto di riscaldamento della scuola. Era un danno grave che non si è riuscito a riparare nel giro di poche ore ma ci è voluta più di una giornata per appunto riattivare l'impianto di riscaldamento e dopo due giorni di lavoro i tecnici della provincia hanno risolto il guasto all'impianto termico. Quindi oggi i ragazzi tornano a scuola. Premiati gli 11 circoli anziani più attivi, 11 mila euro, a chi si è dimostrato più dinamico. Si tratta delle attività laboratoriali che hanno coinvolto non solo i club anziani della città di Fano ma anche alcune associazioni. Saranno attribuiti questi premi sulla base di una graduatoria stilata da chi ha gestito il progetto. I sei più operosi sono i circoli delle Fontanelle, Cicogna, le Colonne del Cielo, Sassonia, Foro Boario, Ponte Sasso. E hanno come ultimo lavoro che i circoli anziani insieme ad altre associazioni hanno realizzato è una battilarda artigianale infiochettata che sarà consegnata a 60 personalità della città di Fano che fanno parte di istituzioni pubbliche, forze dell'ordine e scuole. Insomma un gentile pensiero per Natale. La piscina va verso il completamento, la piscina di Fano. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola, che ieri ha convocato i soci ma anche diverse personalità nella sala di rappresentanza della Fondazione che è stata finalmente riaperta al pubblico dopo i giorni di chiusura a causa del Covid. Era un po' la cerimonia degli auguri che si realizza, che si organizza generalmente nel periodo di Natale nella relazione appunto del presidente Gragnola. L'ultimazione della piscina nel corso del 2022 e l'ultimazione della prima tranche, del primo lotto dei lavori per quanto riguarda il restauro di Palazzo Zagarelli, ha veduti un'istituzione che diverrà di uso pubblico come sede di associazioni ma anche come sede di convegni, di incontri, di studi in un palazzo nobiliare al centro della città. E poi vediamo un personaggio curioso di Andrea Giomaro, un virtuosista, un tecnico specializzato in effetti speciali. Giomaro è protagonista con la sua arte in un film con la Bellucci, il farese maestro degli effetti speciali ancora una volta in grande evidenza. A Urbino i dipinti tornati da Brera aprono nuovi scenari. Il direttore di Palazzo Ducale Luigi Gallo dice sarà un allestimento tecnologico. Il sindaco Gambini, il gesto di Franceschini quasi commovente, grazie, perché il ministro Franceschini ha concesso la restituzione di cinque dipinti che erano a Brera, portati via da Urbino e dal nostra provincia all'epoca dai soldati napoleonici. Adesso ritornano, ma sono delle opere d'arte importanti. Sono dipinti del Barocci, di Simone Cantarini, di Cristoforo Roncalli, conosciuto come il pomarancio. E questo ha un po' suscitato la gratitudine ma anche l'entusiasmo di tutti gli amanti dell'arte. Qui abbiamo anche una dichiarazione di spalla di Bonita Cleri. La Galleria Nazionale delle Marche è il contenitore della nostra cultura, ha detto la storica dell'arte. Insomma, un provvedimento che valorizza ancora di più il patrimonio della nostra provincia. E diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico. Aprendo il giornale, vediamo qui i titoli che pressapoco si assomigliano con quelli del Carlino sulla prima pagina. Vediamo subito quello che accade nelle scuole. Nei nidi e nelle materne, nove maestre al bivio, vaccinate o sospese. Il dirigente dei servizi educativi Chiani, del Comune, qualche giorno per regolarizzarsi, dice. Chiani, Walter Chiani, no, non è del Comune, dei servizi educativi, voglio dire, insomma. Per ora l'amministrazione comunale non ha previsto eventuali supplenze per quanto riguarda queste scuole che sono di competenza del Comune. Scuole, infanzia e asili nido di Pesaro. Il 4% del personale scolastico ancora è senza vaccino. Il 15 dicembre, nel primo giorno dell'obbligo, è costretto appunto a regolarizzarsi o si vaccina oppure resterà a casa. E questo è un out-out che un po' comprende tutti. I 26 sono i pressi di riferimento a Pesaro per la fascia da 0 a 6 anni, 13 nidi comunali, 13 le scuole dell'infanzia, 218 gli educatori e ausiliari che sono impiegati nel complesso, di cui 9 devono ancora adempiere all'obbligo del vaccino. È diventato un obbligo. Vaccinati i primi 30 bimbi, muraglia lunga di un'ora, la seduta odierna al lab dell'ospedale durerà dalle 13 alle 16, un'ora in più per soddisfare le maggiori richieste. E Marche Nord va alla ricerca di altri operatori sociosanitari, non solo medici, ma occorrono anche queste figure molto molto importanti per quanto riguarda il connubio tra sanità e socialità. Partite le richieste con l'obiettivo di raggiungere subito almeno 50 adesioni, il nodo del tempo determinato, assunzioni straordinarie e urgenti almeno per tre mesi e sono assunzioni appunto a tempo determinato. E poi vediamo anche sul Corriere le dichiarazioni dei sindacati per quanto riguarda il provvedimento che chiude la psichiatria pesarese, tagliati dieci posti letto, un articolo di Lorenzo Furlani che fa un po' il quadro della situazione, il peso è sui pazienti più fragili. I sindacati si rivolgono alla Regione e alle istituzioni locali per la revoca della sospensione del servizio di Pesaro, assumete dalle graduatorie infermieri e operatori sociosanitari invece di rimodulare, questo l'avevo detto anche prima, l'organico esistente, occorre più personale, non si può spostare il personale da un settore all'altro. A Fano e Pesaro integrazione è insufficiente secondo i rappresentanti dei lavoratori. Muraglia, Marche Multiservizi ha spostato l'acquedotto, il cantiere della Bretella ora può partire. L'amministratore delegato Tiviroli dice rispettati gli impegni presi sui tempi, preservato l'antico tracciato romano. Vorrei vedere, insomma, questo è anche uno dei patrimoni storici della città pesarese. E poi vediamo anche un titolo che riguarda l'ex consorzio agrario, la cui odissea è infinita. Il giudice in questo caso ha trasmesso gli atti al PM. Dichiarato terminato l'incidente probatorio, in attesa che l'indagine si conclude, famiglie sono in attesa. Chiudono dopo 90 anni i forni di malandrino. Sono forni molto noti nella città di Pesaro. Domani purtroppo sarà l'ultimo giorno. Il Paso, segretario della Confcommercio, dice una notizia che ci fa male. In realtà è una notizia che ha sorpreso un po' tutti, amplificata anche dai social. Chiudono i forni in malandrino dopo più di 90 anni di attività. Una tradizione che la famiglia malandrino ha tramandato di generazione in generazione, aprendo più di punti vendita. e quindi è molto molto conosciuta in città. E quando se ne va un'attività economica così diffusa, così importante, si perde un pezzo di storia e di attività sociale della città. Giriamo ancora le pagine e vediamo quello che accade ad Urbino. Ad Urbino si parla di tartufo, in realtà si parla di acqualagna, ma insomma è tutto il circondario urbinate che viene compreso in questo articolo. La cerca e la cavatura del tartufo diventano un patrimonio tutelato dall'UNESCO. L'inserimento tra i beni immateriali dopo nove anni di istruttoria esultano acqualagna, pergola e Sant'Angelo in vado. Ma al centro del riconoscimento, in questo caso non è il tartufo in sé per sé, ma la simbiosi tra il cercatore, il cane e tutte le conoscenze e le pratiche trasmesse e tramandate per secoli oralmente, anche attraverso storie, fiabe, aneddoti e proverbi. Quindi una cultura popolare che deve essere preservata. A Fano, la piscina pronta nel 2022. Erogazioni oltre un milione di euro. È un titolo che si riferisce alla cerimonia degli auguri che la Fondazione Carifano ha organizzato nella giornata di ieri nella sala di rappresentanza. Il Presidente Gragnola ha dato delle notizie per quanto riguarda il consuntivo di attività compiute nel 2021 e anche quello che si profila nel 2022. E qui c'è una buona notizia. Bene augurante questa fotografia, non so se riuscite a vederla, è piccolina, ma qui si vedono le travi che dovranno reggere il soffitto della nuova piscina che stanno giungendo nella sede del cantiere. E quando si arriva al soffitto vuol dire che si è a buon punto per la realizzazione dell'opera. E poi ieri si è tenuta un'iniziativa importante nella sala della Fondazione Carifano, il report dell'economia di Banca Italia. L'economia marchigiana è in forte ripresa, ma non tutte le ombre sono scomparse. Ci sono ancora delle criticità. E' stata incoraggiante l'analisi effettuata dalla Banca d'Italia sulle 2021. Comunque la Presidente di Confindustria, la Baronciani, ha ricordato nell'occasione i gap del territorio. E qui vediamo i relatori che hanno riferito un po' l'andamento dell'economia in questa iniziativa organizzata dal Centro Studi Economia e Territorio presieduto da Mario Pelonghini. Qui vediamo uno dei redattori del report, Davide Dottori, il Presidente della sede anconitana di Banca d'Italia, Lunno Magrini, Alessandra Baronciani, eletta di recente Presidente della Confindustria di Pesaro, l'assessore alle realtà produttive, il Vice Presidente della provincia Mirko Carloni e Mariani per quanto riguarda la Confidi. Insomma una ripresa consistente che però deve fare i conti con alcune criticità. Sulla Val Metauro paura per una fuga di gas, ma il contatore è esterno e quindi si sono evitati dei problemi. Per quanto riguarda Marotta invece ieri ci sono inaugurati nuovi arredi nella stazione, stazione del treno efficiente e accessibile, un investimento strategico per i trasporti. Era presente anche da Alessandro delle Ferrovie, oggi è una giornata di festa, ha dichiarato, mentre il Sindaco Barbieri ha aggiunto un significativo progresso, è stato compiuto per quanto riguarda appunto la stazione ferroviaria di Marotta e quindi di Mondolfo. Era l'ultima notizia, possiamo concludere, era l'ultima notizia di cronaca, possiamo concludere con lo sport. Deramo a Visa Pesaro ci piace comandare, il centrocampista dell'Ancona con la Vito ci ha insegnato la giusta mentalità e la Vis Pesaro si prepara a sostenere questo nuovo incontro con la squadra d'Orica. È tutto per il momento, Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Buona giornata.